Il futuro di giurisprudenza è veramente a rischio? Il futuro di giurisprudenza non può che essere roseo. Senato accademico, Consiglio di amministrazione, nelle ultime sedute hanno varato una nuova offerta formativa per quanto riguarda la facoltà di giurisprudenza, quindi la magistrale in servizi giuridici, anzi una magistrale innovativa che vede la legge ed economia insieme, e quindi un'esperienza unica in Italia per offrire ulteriori possibilità. Il percorso, il ciclo unico della magistrale di giurisprudenza è per la prima volta dopo diversi anni sta vedendo un blocco del calo delle iscrizioni, ricordi un calo a livello nazionale, insomma io voglio ricordare che giurisprudenza è stato sempre il serbatoio oltre che dell'avvocatura, della magistratura, anche dei concorsi pubblici e con i concorsi pubblici che sono bloccati da oltre un decennio è chiaro che c'è un distacco da questo percorso formativo, però abbiamo invertito la tendenza, abbiamo rafforzato notevolmente il post lauream, quindi anche per attività formative che non vanno solo verso l'avvocatura e la formazione in magistratura, quindi legata al diritto degli appalti, piuttosto che alla mediazione familiare, piuttosto che alla normativa legata al settore agroalimentare e ambientale. Abbiamo trovato una sistemazione idonea finalmente dopo il terremoto alla sede di Avezzano, quindi che vi ricordo c'è la duplicazione del corso di giurisprudenza, quindi a livello regionale la giurisprudenza è teramo, è un polo di eccellenza, non viene scalfito e non verrà mai toccato, ovviamente finché il rettore sarà Dino Mastrocola. Volevo anche ricordare che le collaborazioni all'interno del sistema universitario regionale benvengano perché ci rafforzano e non ci indeboliscono e l'altro aspetto importante, perché qualcuno adombra il trasferimento di docenti, ma i docenti sono, come mi ricorda qualche collega, sono dei chierici vaganti, insomma quindi possono fermarsi a Teramo, tornare a Roma, andare a Bologna, venire a Teramo. Quindi docenti nuovi stanno arrivando, docenti che hanno svolto un percorso qui, quindi con un'opportunità di rientro nella regione di origine, insomma lo stanno facendo. Perché allora alcuni gruppi studenteschi affermano il contrario? Bisognerebbe chiederlo a loro, forse prima di mandare una lettera alla stampa, se fossero passati a sentire il rettore, la cui porta è sempre aperta, ho avuto modo di dirlo loro anche in altre occasioni, forse si sarebbero resi conto di quello che l'Università di Teramo sta facendo per giurisprudenza e quello che giurisprudenza fa e continua a fare per l'Università di Teramo.